Credo che la curiosità sia un motore che dà energia alle idee e in un contesto come HFARM che vive di idee, vive di persone e storie. Penso che la curiosità possa essere quel fattore che unisce i puntini e che permette di trovare nuove soluzioni o di creare qualcosa di nuovo, oppure di trovare un nuovo modo per raccontare e raccontarsi. Il mio ruolo mi mette spesso a contatto con le persone e le loro storie, che sia tramite un post social, un evento, un video, che sia per valorizzare un'azienda oppure per divulgare conoscenza. Un approccio critico permette di stimolare il senso critico e ti porta a porti delle domande. Perché succede una determinata cosa? Come posso fare per raggiungere quel determinato obiettivo? Cosa voglio che venga trasmesso tramite questo messaggio? È anche nelle risposte a queste domande che si manifesta la continua curiosità di voler scoprire e capire. Penso poi che, a prescindere dal ruolo lavorativo di ognuno, vivere con curiosità permetta di essere più entusiasti, più consapevoli e di accogliere nella nostra quotidianità la sorpresa. La curiosità è quello che ci spinge ad andare in un altro posto, a tentare un'avventura nuova, a entrare in uno spazio dove non dovremmo entrare. È l'avventura, è il piacere dell'ignoto, è la scoperta. Per me la curiosità è lo spazio di scoperta, di crescita personale. La curiosità è quello che ci porta, che ci fa smuovere, che ci fa alzare dal letto e ci fa tentare cose nuove. La curiosità è il fondamento di tutto ciò che faccio. La curiosità è quello senza il quale non potrei imparare e non potrei insegnare niente al college dove lavoro.